Buonasera a tutti, sono Rosella di Spotlight. Questa sera volevamo passare una serata di ballo e divertirci in compagnia. Per questo vi presento, perché vi faranno compagnia i nostri maestri di ballo che trovate alla scuola di ballo Spotlight. E sono i maestri Gianluigi Salghetti e Isabella Castoldi per il D'Arlando di Giro. E l'insegnante Nadia Pellegatta. E insegna a tutti i tuoi DJ che sono Alessandro e Giorgio. E con le loro musiche ci propongono una serata di ballo e dance. Allora, non spaventate, fanno parte del group forever group, ma loro propongono musica per tutti, non solo Boogie. Troverete Alessandro e Giorgio anche nelle serate, ci si terranno il sabato sera allo Spotlight. Allora, non spaventate, fanno parte del Giorgio. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!